carissime internautesse e cari internauti io sono il messaggero nostro abacus e vista l'imminente fine ed estinzione totale dell'italia vera e dell'intero popolo italianus ho deciso di entrare nelle vostre case nei vostri iphone e nei vostri schifon nei vostri ipad e tablet ma soprattutto nelle vostre teste di osso come ci è entrato questo virus molti miei seguaci fedelissimi anche loro alla filosofia abacchista l'unica filosofia che dalla fame perde la vista e una volta persa la vista per fame non ti rimane che la filosofia abacchista da ingoiare scusate per la parentesi spiego questo per le persone alle quali appaio sul loro schermo per la prima volta appunto come vi dicevo poc'anzi ho deciso di mostrarmi a voi per farvi lanciare un ultimo e disperato grido di speranza se ancora vi rimangono sentimenti addosso voce nell'anima amore nel cuore e voglia di cambiare le mie follower esse i miei followers mi dicono caro messaggero nostro abacus ci hanno messo in galera nelle nostre case senza aver commesso nessun reatus ci hanno privato di poter vedere le nostre fidanzate fidanzati in città differenti abitate ci hanno proibito di portare i bambini ai loro bei parchini e non ci fanno lavorare e quindi i nostri soldi stanno per terminare caro messaggero nostro abacus come possiamo fare per eliminare questo enorme e spinoso cactus dal nostro culus che cos'è veramente questo virus ecco queste sono alcune delle tante tale che mi arrivano perché a me sì arrivano le tale no le mail essendo connesso mentalmente con i miei fan purtroppo per voi italiani in generale e soprattutto per tutti i miei seguaci sono apolitico non mi espongo per fare politichemica o per far decidere agli altri quello che posso fare e decidere benissimo con la mia testa e con tutto il resto del mio corpo nostra abacus dimmi orsacchione rush dimmi non vedi che sono in tubo conferenza digli la cosa della costituzione italiana l'articolo 13 caro orsacchione sai bene che io non sono tenuto a dare questa informazione essendo politico ma parla della libertà e degnità di ogni singolo individuo gli individui reali purtroppo stanno per finire se non sono già finiti sono tutte marionette sono arrivati ad una situazione dove si coprono il volto per vergogna altrui gli uni guardano male gli altri non va bene la gente non capirà mai la propria libertà perché non l'ha mai avuta forse ma ci sono anche persone che vorrebbero uscire da questa situazione e allora che si andassero a leggere la costituzione italiana almeno l'articolo 13 da quello capiranno che se veramente vogliono essere liberati da questa prigionia e dittatura forzata infima domestica e mentale possono agire di conseguenza ho visto che è proibito andare a vedere la propria fidanzata o compagno non poter lavorare non poter andare a bere un drink con gli amici non fare una bella passeggiata con i propri figli non poter andare a fare shopping e andare solo a fare interminabili code alle farmacie ai supermercati proibiscono anche di leggere la costituzione italiana e di metterla in atto o la maggior parte della gente che popola l'italia adesso non la conosce affatto aiutali anche tu orsacchione rush visto che mi sembri più pensante di loro perché mi hai chiesto se devi fare l'autocertificazione per giocare con i bambini no fai l'autocertificazione piuttosto dicendo che esci per farti contagiare dal virus talmente letale come dicono piuttosto che morire giorno dopo giorno lentamente ma io non posso giocare con i bambini non li fanno uscire sono prigionieri di loro stessi e della loro infanzia ingiustamente negata ma io non posso fare niente devono essere i loro genitori aprendo gli occhi e magari contattando un avvocato chiedendogli se è legale e giusta una condizione simile e contattare gli psicologi sui possibili danni che potrebbero avere a livello emozionale o cerebrale del bambino e se è tutto sbagliato denunciando e chiedendo i danni a tutti quelli che hanno messo in atto questa situazione e questa pagliacciata dell'io resto a casa dovrebbero mettere tutti io esco di casa e mando a casa te che campi sulle spalle della povera gente da anni mi stai distruggendo e farai lo stesso con i miei figli i miei nipoti e la mia terra un domani vergognoso e reale parassita del pianeta io non sono nella testa delle persone devono capirlo loro di averne una e non fare decidere sempre agli altri cosa è meglio per loro per il popolo per il paese e per il mondo intero come ti dicevo all'inizio sarà l'estinzione del popolo italiano e dell'italia vera no quella delle cartine perché mi sembrano tutti delle cartine sono solo foto video sui social che si insultano a vicenda o fanno rivoluzioni virtuali a parole è ridicolo chissà quanta gente sta ridendo alle loro spalle io caro orsacchione non posso farci nulla i bambini anche a me mancano ma stiamo cercando una soluzione a tutto ciò io e la messaggeressa adesso però gli italiani devono arrangiarsi da soli capire per cosa essere uniti ognuno con la propria testa e la loro indipendente libertà voglia di vivere e fede di un mondo migliore visto che li stanno ammazzando mediaticamente mentalmente e realmente in qualche modo io da solo cosa posso fare non ho nessun marchio o simbolo addosso con il quale mostrarmi devono essere loro o per farli decidere ci vuole solo un marchio di moda un importante brand un emblema politico o un simbolo religioso che marchio o simbolo ha la tua libertà di espressione pensiero e movimento caro orsacchione nessuno e anche a voi lo dico carissime internautesse e cari internauti cosa posso fare cosa posso fare lancio il mio primo hashtag io cosa posso fare vi piace come idea fa la tendenza perché quello che interessa la gente non la libertà la tendenza tendenza ad essere limitati ed eliminati dal proprio conscio cosa succederà con le povere imprese magari piccole o medie con i problemi dovuti forse ma forse alla crisi che si è creata con l'euro il mondo è dei furbi caro orsacchione rush non possiamo sempre dormire dove c'è debolezza viene imposta la forza e la violenza per annientarla definitivamente ma io sinceramente cosa ci posso fare metto l'hashtag io cosa posso fare mi auguro che molta gente lo capisca e inizia a metterlo anche lei condividendo questo importante messaggio per la libertà e l'amore più l'amore ma anche la libertà e la libertà di farlo e con questo carissime internautesse cari internauti vi saluto se avete trovato utile il mio consiglio riguardo la costituzione italiana e l'articolo 13 in particolare che parla della libertà personale di ogni singolo individuo scrivetemi iscrivetevi al canale e ricordate che il messaggero nostra bacus è sempre connessus e non vi infetta né la mente nei computer e negli smartphone con i virus ciao